Eccoci, eccoci finalmente con un ralassamento guidato, una meditazione guidata accendo un po' di incenso per creare l'atmosfera e cominciamo e questa meditazione guidata vi chiedo è di stragiarti già nel tuo letto, tra le tue lenzuola in una posizione rilassante e comoda e di ispirare e espirare facendo attenzione al tuo respiro a respirare solo dalle naso, inspira e desfira e gentilmente quando vuoi con i tuoi cutie occhi inspira ed expira profondamente immagina immagina che l'aria che inspiri ed espiri abbia un colore a te caro rilassante, un colore confortante, pieno di energia e positiva e da inspira ed espira ora immagina che ad ogni respiro ad ogni respiro entra calma entra calma ed esce stress entra calma ed esce stress entra calma ed esce stress dal tuo fisico entra calma comincia a rilassarti dal basso verso l'alto per far uscire lo stress dal tuo corpo dal tuo corpo dalle gambe i piedi le ginocchio le cosce e via via dal tuo bacino dal tuo ventre dal tuo vetto dalle braccia dalle braccia dalle mani dalle spalle il collo il metto i tuoi denti non stanno diglignando le tue labbra le tue palpebre sono gentilmente chiuse e rilassate e respiri dal naso inspira e respira ora ora passiamo alla mente lo stress fuoriesce con il tuo respiro cerca cerca nel profondo tutto ciò che non ti permette di riposarti in questo momento i doveri i pensieri i progetti le incomprensioni ora tutti questi pensieri fuoriescono della tua mente e fluttano nella tua stanza non sono più nella tua testa nella tua mente sono sul soffitto sono sul soffitto della tua stanza respira inspira e respira inspira e respira non hai nulla da fare non hai nulla da fare ora lo stress della giornata si allontana tu sei dove dovresti essere a cercare di rilassarti di rigenerarti respira inspira ed espira e cerca di cominciare a cogliere il senso di rilassatezza che pervate respira ed espira ed espira spira ora immagina una stanza nel centro di uno spazio aperto se ti senti sicuro se ti senti sicuro se ti sentite sicuri altrimenti contieni anche questo spazio la stanza ha una porta e una finestra e lo spazio che circonda ora è come lo desideri immagina e respira ora apri la porta e con un gran respiro inspira tutto lo stress che hai rilasciato e con uno spuffo e con uno spuffo innanzitutto nella stanza osservalo fluttuare ma questa volta era chiuso in questa stanza fuori dalla tua mente osserva osserva con la tua mente e respira e quando ti senti pronto e quando ti senti pronto quando ti senti pronto quando vi sentite pronti la porta si chiude e ti sposti verso la finestra con le mani sul vetro e da lì guardi nella stanza ora quei pensieri cattivi non sono più solo racchiusi sono rinchiusi sono rinchiusi in quella stanza e tu li guardi da fuori non possono toccarti non possono spaventarti non hanno senso non hai nulla da fare ora tutto ciò che ti stressa ora è rinchiuso e tu sei dove dovresti essere a cercare di riposare di rinassarti di rigenerarti respira respira e fai attenzione a come ti senti ora ora che i pensieri cattivi sono rinchiusi hai sempre le mani sul vetro e guardi dentro i pensieri sono racchiuse accorgitene e respira 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 ora ti volti alle tue spalle nello spazio che hai creato in lontananza vedi una gattina una gattina gentile che viene verso di te selina 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 una gattina ti ha notato ti ha notato ti ha notati ha notato che viene verso di te osservalo regale dolce tranquillo spensierato viene verso di te si avvicina passa e se ne va se ne va ma ti ha sicuramente regalato un pensiero più dolce di quelli racchiusi rinchiusi nella stanza cosvisci questo pensiero che sia sorpresa calma felicità curiosità dolcezza conserva questo sentimento donato al passaggio al passaggio di questa gattina rilassati e respira ora ti lascio qualche minuto per immaginare altri animali a tua scelta sono animali sempre più grandi e fanno ciò che ha fatto la gattina passano vicino a te aggallanti un'emozione che conservi e immagino questi animali e respira rilassati sei dove dovresti essere a cercare di riposarti rilassarti rigenerarti riposarti rilassarti rigenerarti queste animali passano e ti regalano buone sensazioni ora il prossimo animale è un insetto rumoroso e fastidioso cerchi di scacciarlo ma ti accorgi che se ti calmi lo fa anche lui e come gli altri animali anche lui passa e se ne va e tu dormi tranquilla tranquillo siete tranquilli c'è la finestra hai sempre le mani sul vetro osserva lo spazio e respira ora lo spazio che hai creato diventa una strada ricetta rumorosa macchine bus persone persone in bicicletta una in particolare viene verso di te è come gli animali di prima passa ma lei ti sorride non sai se è davvero felice ma è gentile ti sorride ti sorride e va fai sì che questo incerto sorriso ti dia la forza per staccare le mani dal vetro della finestra della stanza e via vai lascia e attraversa la strada e tutto il suo dram dram l'attraversi con le tue emozioni nuove regalate precedentemente dagli animali e conservate cammina attraversa questa strada e tutto il suo trantram fastidioso forse che le circonda ma tu ne sei immune sei potente sei sollevato sei rilassata e cammini cammini e respiri cammini e respiri percorri questa strada città forte dei tuoi nuovi pensieri respira alla fine della periferia c'è l'entrata per un boschetto è incerto come il sorriso ma ti incuriosisce è bellissimo qui ci sono i fiori il verde le farfalle i funghetti e poi un laghetto chiaro limpido fresco ci sono dei pesciolini e dei ruspetti tu li vedi sorridi li avvicini e entri nel laghetto che te rinfresca ti pulisce ti pulisce sei chiaro come il laghetto ora sei chiara come il laghetto ora siete chiari nuovi siete chiari nuovi e nuotando nuotando vedi una luce sul fondo e nuoti verso di lei ora quella luce sei tu sei essenza non hai più non hai più non hai più peso non hai più pensieri sei luce chiara senti questo momento e ascoltati mentre la luce affievolisce ma tu non ti preoccupi perché man mano che la luce scompare tu riprendi forma sei di nuovo tu le tue gambe il bacino il petto le spalle il collo le braccia le mani la tua testa la tua mente sei tu non sei più nello spazio creato ma sei nella tua stanza tocca le tue lenzuola da carezzare il materasso sei tu nel tuo letto rilassante confortante è notte c'è la luna nella sua forma odierna i pensieri sono lontani i pensieri sono lontani forse lontanissimi adesso rinchiusi non ci sono pensieri progetti incomprensioni è tutto racchiuso e rimandato perlomeno fino a domani e tu hai i tuoi nuovi pensieri la gatta il sorriso l'insetto la strada il laghetto il bosco e soprattutto quando è di luce senza forma senza peso sei un tutt'uno con il letto ora i tuoi occhi sono chiusi già da tempo respira goditi goditi in questo momento accoccolati 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 respirati e dormi Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.